La ricetta per una pasta buona buona Olio extravergine d'oliva 100% abruzzese Uno spicchio d'aglio rosso di sulmona Pomodoro abruzzese del tipo Appela Il re dei pomodori Primo premio a Monsampolo 2012 E... L'area delle nostre montagne E adesso la pasta Non c'è pasta Con un condimento così non serve la pasta Va bene anche solo la scappetta Le palle con le patate Da ventano Grazie a tutti Grazie a tutti